L'accordo che sottoscriviamo stamani è un pezzo di ragionamento che noi abbiamo fatto sulla piattaforma unitaria CGL-Cisleville sui temi della sanità. Tanti sono i punti importanti, il primo fra tutto è la riduzione delle liste d'attesa perché è uno degli elementi che prova a ridurre le disuguaglianze rispetto all'insieme dei cittadini. È un tema molto sentito dalla popolazione, tutta, e quindi questo è un primo passo. Ovviamente noi non ci arrendiamo, bisogna andare avanti e bisogna provare a portare a casa anche gli altri pezzi importanti della piattaforma. Noi ci siamo e ci auguriamo che la regione continui di questo passo. Anche in Toscana abbiamo dato seguito a quello che è stato uno straordinario risultato a livello nazionale per la prima volta. Il finanziamento alla sanità pubblica cresce e si eliminano, come da nostra richiesta, i super ticket. In Toscana lo facciamo a partire dal super ticket sui laboratori, già da subito, senza aspettare i tempi della riforma nazionale. E lo facciamo perché abbiamo bisogno anche di aprire un cantiere, che già in questi giorni stiamo discutendo, per rendere più eco l'accesso alla sanità pubblica. E poi c'è un tema peculiare riguardo agli anziani, perché le persone, avendo la fortuna di invecchiare, si portano con sé qualche criticità e queste criticità in un sistema sanitario efficiente hanno la possibilità di essere risolte con maggiore possibilità per la qualità della vita delle persone. Ed è tutto evidente che questo lavoro associato al protocollo che abbiamo ciclato segna l'inizio di una stagione importante per qualificare la sanità toscana. L'importanza di questo patto per i lavoratori della sanità toscana è che da qui si possa dipanare tutta una serie di tavoli di trattativa specifici affinché possano arrivare quelle risposte che questi lavoratori oramai attendono da diverso tempo, visto che da 2015 abbiamo sostenuto la ristrutturazione del sistema sanitario regionale e quindi lo consideriamo un buon passo, un'ottima opportunità per tutti. Grazie.